...de scattare, mettiamo il condizionale dal primo gennaio prossimo. No, non scatterà. Abbiamo preso delle posizioni precise e abbiamo chiarito che questo meccanismo non scatterà perché è un meccanismo che danneggia i cittadini. Il ministro Bonafede ha delle sue visioni sulla giustizia. Io mi ricordo delle dichiarazioni di Di Maio che diceva parleremo di prescrizione quando riformeremo la giustizia, quando, come diceva Macaluso, analizzeremo tutto l'impianto della giustizia perché ci sono tante cose da cambiare. Comunque la prescrizione è sicuramente una nostra battaglia e noi non la faremo passare.